Ciao ragazzi, oggi proseguiamo lo studio degli invertebrati parlando dei molluschi, detti così perché hanno il corpo molle, da molle uguale mollusco. Questo corpo può essere talvolta protetto da una conchiglia, altre volte da due conchiglie o infine la conchiglia può essere contenuta all'interno del corpo. Sono animali comparsi sulla terra circa 600 milioni di anni fa. Questi organismi ormai sono evoluti e hanno perso il legame con l'acqua. La maggior parte di essi infatti vive sulla terra anche se amano e richiedono assolutamente l'umidità. L'umidità è necessaria per la respirazione. Adesso vediamo quali sono i tre principali gruppi di molluschi. Eccoli qua. Primo gruppo che studierevo sono i gasteropodi. Sono molluschi dotati di un'unica conchiglia esterna. Secondo gruppo, i lamelli branchi, detti anche bivalvi, perché hanno in realtà una conchiglia formata da due porzioni distinte, ossia da due valve. E infine i cefalopodi sono assolutamente la classe più evoluta e contengono un rimasuglio di conchiglia interna. Ma partiamo dai gasteropodi. Un gasteropode comunissimo è la lumaca o chiocciola. Questa presenta, come dicevo prima, un'unica conchiglia. E all'interno di questa conchiglia è contenuto innanzitutto il sacco dei visceri, che contiene il cuore, l'apparato digerente, l'apparato riproduttivo. Ed è protetto da un tessuto speciale chiamato mantello. Nella cavità, invece, detta palleale, sono contenuti gli organi dell'apparato respiratorio, perché all'interno di questa cavità riescono a circolare sia l'acqua che l'aria, dalle quali l'animale riesce a ricavare l'ossigeno necessario per respirare. Interessantissimo, poi, il piede o corpo della lumaca. Questo piede presenta, naturalmente, già un capo. E nel capo sono contenuti tentacoli. Due, i più lunghi, sono detti tentacoli oculari, perché presentano sulla sommità due occhietti. Mentre i due tentacoli più bassi, più corti, sono detti tattili, perché servono per conoscere, per testare, tastare e sentire l'ambiente circostante. Sempre nel capo è presente una bocca che contiene una lingua molto speciale, chiamata radula. Si tratta, in realtà, di una struttura a forma di seghetto dentellato, che serve all'animale per tagliare, sminuzzare, le erbe e i vegetali di cui la chiocciola si nutre. Altro discorso interessante è quello del piede. Questa struttura rappresenta, in realtà, il corpo della lumaca ed è in grado, grazie a delle speciali ghiandole, di produrre una bava. A che cosa serve la bava? Essenzialmente ha due cose. Nella vita normale, la bava serve per ridurre l'attrito e consente all'animale di scivolare meglio sulle strutture, sulle superfici su cui si appoggia. Altra funzione della bava è quella di creare un tappo che serve per chiudere il guscio dell'animale d'inverno quando la lumaca va in letargo. Sì, perché le lumache, con il sopraggiungere della brutta stagione, scavano delle gallerie nel suolo per essere più riparate, si richiudono all'interno del loro guscio e con la bava chiudono la loro casetta. Queste che vedete sono, infatti, delle lumache col guscio opercolato, col guscio chiuso. Altra curiosità riguarda, invece, il metodo riproduttivo delle lumache. Si tratta, infatti, di animali ermafroditi non sufficienti. Questo significa che hanno una riproduzione sessuata, che ogni individuo possiede sia gli organi maschili che femminili, ma che per l'accoppiamento occorrono due individui, in modo che la porzione maschile di uno fecondi la porzione femminile dell'altra. Direi che è importante conoscere questo animale pensando soprattutto alla nostra zona, perché la zona di Cuneo è caratterizzata da uno sviluppo piuttosto importante dell'elicicoltura, ossia l'allevamento delle lumache, tanto che a Borgo San Dalmazzo tutti gli anni si tiene una fiera, la fiera fredda che ha proprio come protagonista la lumaca che viene cucinata nei modi più vari. Della lumaca poi è possibile utilizzarne la bava per creare degli sciampi particolarmente delicati o ancora per confezionare dei particolari sciroppi per la tosse. Per oggi è tutto, ci sentiamo prestissimo.